Mi è stato chiesto di parlare di minimal approach e mi è stato chiesto di descrivere quello che noi abbiamo realizzato nel nostro centro, cioè un percorso di semplificazione. Perché è importante parlarne? E devo ringraziare Giulia Laterra con il suo caso clinico che un po' ha spianato la mia relazione e quindi l'ha resa ancora più semplice. Però perché è importante parlarne? Per questo, perché in realtà, l'abbiamo detto prima nella presentazione del corso, la popolazione sta crescendo sempre di più e il numero delle procedure di LAC stanno crescendo in maniera vertiginosa. Vediamo come è l'andamento, però c'è qualcosa ancora che non convince. Se vediamo i pazienti trattati nei dati GIS del 2021 sono stati più di 1.500. Ebbene, se pensiamo che in Italia c'è un numero estremamente molto più elevato che potrebbe giovare della procedura. Non significa, come diceva il dottore Rubino, che poi li dobbiamo fare a tutti. Però se prendiamo in considerazione i pazienti che hanno una controindicazione relativa assoluta alla terapia anticoagulante, beh, ci accorgiamo che il numero ancora è esiguo. E vedete come l'andamento della procedura interventistica in Italia sta crescendo sempre di più e un dato particolare lo voglio presentare perché sembrerebbe come procedura non abbia risentito del periodo Covid. Noi ci siamo accorti che nel periodo Covid tutte le procedure interventistiche in Italia hanno ricevuto una frenata per la LAC. Paradossalmente non è stato così. Forse perché il paziente anziano non poteva evitare di andare in ospedale o di accedere ai pronti soccorsi per le cure del caso. Su quale base poggia la chiusura dell'auricola sinistra? Fondamentalmente su tre pilastri. la valutazione imaging preintervento per pianificare la procedura, la sedazione profonda, quindi l'anestesista e l'imaging durante la procedura e guidato ovviamente dall'ETE. La TAC cardiaca e l'ETE sono le metodiche di imaging pre-procedurale. L'ETE oggi rappresenta la metodica gold standard, però non dobbiamo dimenticare, non possiamo citare la TAC perché ci dà sicuramente delle informazioni ancora maggiori in termini di risoluzione spaziale e in termini di ricostruzione 3D che consente sicuramente una più accurata caratterizzazione dell'anatomia dell'auricola e quindi la migliore pianificazione dell'intervento. Tutto questo perché per tre motivi o per tre aspetti fondamentali che ho voluto descrivere. L'esclusione della presenza di un trombo, la caratterizzazione dell'anatomia dell'auricola e le misurazioni della stessa. La TAC per chi è abituata per i centri che la fanno dà sicuramente delle immagini straordinarie. Oggi la TAC permette la ricostruzione 3D dell'auricola e quindi di farci vedere quali sono le varie dimensioni dell'auricola e sicuramente permette qualcosa che altre metodiche in questo momento non fanno. la pianificazione il giorno prima della procedura quindi la possibilità di decidere già prima qual è il delivery su cui crossare e passare a sinistra o il device più consono per l'approccio alla procedura. Però c'è un limite non tutti i centri hanno la TAC poi è vero che questa è una procedura a pannaggio del paziente anziano del paziente fragile ma non dimentichiamo che ci sono anche dei pazienti giovani che possono farla. Quindi fare una TAC significa anche aumentare il rischio attinico di quel paziente che poi l'indomani dovrebbe entrare di nuovo in una sala di emodinamica. Ed ecco perché la metodica gold standard durante l'intervento è stata considerata anche pre-LETE. Infatti l'ETE oggi ci permette di avere un'accuratezza assoluta, ci permette con l'X-Pen di avere delle proiezioni ortagonali e con le ricostruzioni 3D ci permette quasi come la TAC di avere un'accuratezza su tutto ciò che riguarda le misure dell'auricola. Il secondo pilastro su cui poggia la procedura è quello dell'anestesista e dell'anestesia generale. L'ha detto prima il dottore Campisi, questo a volte può rappresentare un limite per le nostre emodinamiche. Oggi trovare l'anestesista significa programmare la procedura, quindi diventa più una procedura programmabile che a volte richiede addirittura un secondo ricovero. Però ricordiamoci che i pazienti che devono fare questa procedura sono i pazienti più fragili e quindi quelli più anziani e non tutti possono fare una sedazione profonda, quindi già il primo limite alla chiusura dell'auricola a sinistra. Pazienti che potrebbero avere dei problemi respiratori o pazienti che addirittura per colpa dell'anestesia profonda potrebbero avere un decadimento cognitivo. Quindi nasce un'esigenza. Qual è? Quella di avere un minimal approach su questo, cioè cercare di creare le condizioni affinché non ci sia una sedazione profonda. Ed ecco che abbiamo fatto quel passo in più nel nostro centro. Una valutazione ecografica direttamente in sala, questo perché? Per ridurre i tempi del ricovero. Il paziente è per aumentare il comfort del paziente stesso. Ricordiamoci che fare un ete per un paziente anziano rappresenta un discomfort e lo devi ripetere poi in sala. Quindi abbiamo pensato di farlo una volta sola e direttamente in sala. E poi ci siamo dedicati alla sedazione coscia. Questa utilizzando due farmaci, il Midazola e il Meldextor, che hanno permesso di evitare o di liberarci, tra virgolette, della presenza dell'anestesista. Quindi si è passato da una procedura programmata ad una procedura che puoi fare nel momento in cui stesso decidi di farla o quando il paziente è ricoverato. La sedazione coscia ormai è nota a tutti, poggia le basi su tante risorse scientifiche e ha dimostrato che rispetto alla sedazione profonda non ha dei limiti veri e propri. Però c'era sempre qualcosa che non ci convinceva, almeno nel nostro centro. I pazienti che facevano Dextor a volte avevano difficoltà a spiazzarlo. Ci accorgevamo che dei pazienti, addirittura qualche volta è capitato di fare, in un paio di casi, di fare un attacco in urgenza pensando di aver commesso delle complicanze, di aver avuto complicanze durante la procedura. Ebbene in realtà no, era quel paziente anziano con insufficienza renale importante che aveva difficoltà a spiazzare il Dextor e quindi impiegava molto più tempo. Quindi è vero, la sedazione coscia ci toglie dall'anestesista, ci toglie dalle esigenze di avere un anestesista in sala, però ancora rappresenta un limite per questi pazienti. Limite per il paziente stesso, per la famiglia che si aspetta che dopo che il paziente esca da una sala operatoria già parli e soprattutto questo fa allungare il periodo del ricovero con conseguente aumento dei costi della spesa sanitaria. Quindi si è voluto fare quel passo in più. Valutazione ecografica in sala e vedete sedazione blanda con uno e addirittura noi adesso facciamo zero farmaci. Un farmacere midazola ma addirittura non facciamo nemmeno quello ormai. E' l'imaging tranne ICE. L'ICE prevede come è stato detto un doppio accesso venoso, lo nasce per essere una sonda intracardiaca a destra e vedete come in effetti dà delle immagini straordinarie. Tutto questo per la puntura. Però ci siamo accorti, almeno nella nostra esperienza, che avevamo dei limiti a poter definire bene le sezioni di sinistra, avevamo dei limiti anche per lo studio dell'auricola e quindi per la scelta del device e delle sue misure. Alcuni centri, non è il nostro caso, ma devo dire che in pochi lo fanno, utilizzano l'ICE nel tratto del flusso destro. Altri centri, come il dottore Campisi prima parlava, ma abbiamo il professor Berti, quindi che ci sicuramente insegna questa metodica, passano l'ICE a sinistra. Il passaggio dell'ICE a sinistra sicuramente aumenta di gran lungo la risoluzione dell'immagine e permette di portare a termine la procedura in assoluta sicurezza. Però c'è da dire anche che significa fare o una doppia puntura o una dilatazione della prima puntura per passare due device e tenere un device a sinistra per tutto il tempo della procedura. Che se in mano a delle persone esperte che con un centro ad alto volume rappresenta, non rappresenta un problema, però per un centro che si approccia a questa metodica, per un centro non ad alto volume, sicuramente questo può rappresentare un limite e una difficoltà. Quello di cui si parla ormai è scritto in tutte le riviste scientifiche e l'ICE utilizzato per la chiusura dell'auricola sinistra sicuramente ha dimostrato un'efficacia e una sicurezza sovrapponibile a quella dell'Ete per via classica. E vedete come le immagini sono assolutamente idonee per portare a casa la procedura. Ad onore del vero è uscita la sonda microprobe 3D sempre per via Ete, ma questo noi l'abbiamo valutato sempre come un possibile discomfort per il paziente, per questo a dire la verità nel nostro centro non ce l'abbiamo nemmeno. Quindi avendo questi limiti si è pensato di fare l'ulteriore step. Come ha detto Giulia è tutto nato per caso come molte delle tecniche in emodinamica e vedendo questo paziente abbiamo poi traslato l'esperienza di questo paziente né in tutti gli altri pazienti consecutivi utilizzando la sonda ICE per via transesofagea. Questo sicuramente è stato l'ultimo step almeno fino adesso per chiudere il cerchio del percorso della semplificazione. Però la semplificazione non è solo quello che avviene in una sala di emodinamica e nel nostro percorso di semplificazione abbiamo immaginato qualcosa che andasse al di là della sala operatoria. Nella rete organizzativa l'identificare il percorso infatti inizia proprio da lì, nell'identificazione del paziente che beneficia della procedura. Anche in altri reparti i nostri colleghi cardiologi che fanno le consulente nei vari reparti pongono già lì l'indicazione e il paziente non viene ricoverato da noi, rimane lì, fa la procedura di inizia e torna lì. Questo significa avere più disponibilità di posti letto nel nostro centro e significa creare quel network anche con le altre strutture e con gli altri reparti. L'ecografia procedurale è stato sicuramente emblematico nell'approccio di semplificazione per la valutazione del trombo e l'esclusione dello stesso. È capitato qualche volta che qualche procedura non poteva essere differita nonostante la presenza del trombo, oggi c'è la possibilità di utilizzare dei filtri in sala che rendono quanto più fattibile e sicura la procedura. Ultimamente stiamo cercando anche di semplificare gli approcci utilizzando, non me ne voglia nessun emodinamista, ovviamente tutti noi sappiamo pungere una vena femorale anche senza eco, però nel nostro centro di recente stiamo utilizzando la puntura eco guidata, addirittura abbiamo un dispositivo portatile in wifi con una tablet che ci permette di fare la puntura eco guidata. Questo sicuramente ha consentito di ridurre il rischio di complicanze legate alla puntura stessa e la chiusura con dei device dedicati proclite o perclosa, sicuramente ha ridotto anche lì drasticamente le complicanze dell'accesso. Questo significa che se anche ne fai uno ogni tanto complicanza, però ridurre quella significa ridurre anche non solo la complicanza, ma ridurre anche il tempo del ricovero del paziente stesso. E l'ASTI è ormai stato sviscerato dalla collega per cui non devo dire nulla se non rafforzare quello che abbiamo detto, l'utilizzo annulla l'utilizzo dell'anestesista, le complicanze respiratore, il degatimento cognitivo e sicuramente migliora il conforto del paziente. Le immagini già le abbiamo viste, non hanno nulla da infidiare a quello di un'ete e come detto Giulia, tutti i nostri pazienti, nessun paziente ha fatto switch e quindi ci possiamo ritenere soddisfatti di questa metodica. In conclusione, cercando di riassumere quello che è il nostro percorso di semplificazione che ci auguriamo possa piacere a tanti altri a tante altre modinamiche e verte sul primo punto, che è quello importante. L'impiego di un team, il cardiologo interventista, l'ecografista e l'infermiera di sala, è solo la sinergia tra queste che permette di velocizzare una procedura, rendendola sicuramente più sicura. L'utilizzo dell'ASTE ha evitato la presenza dell'anestesista, riducendo il discomporto del paziente. L'utilizzo di device di chiusura per la vena femorale ha permesso una drastica riduzione, anche se minima, delle complicanze vascolari e quindi rapida mobilizzazione del paziente stesso. Tutto questo, ed è quello che dicevo prima e che mi piace sottolineare, ha permesso di rendere una procedura che fino a qualche anno fa era programmabile, programmata, spesso addirittura si doveva ricoverare il paziente nuovamente in una procedura fattibile e nel nostro centro addirittura ormai abbiamo attuato quello che è il deservice per le chiusure dell'auricola sinistra. Il paziente viene a digiuno, si ricovera, fa la procedura, rimane una notte, l'indomani mattina va a casa. Tutto questo si traduce in ricoveri più brevi, riduzione del discomporto del paziente, della famiglia stessa e riduzione dei costi sociali. Grazie a tutti.